Il prato deve attecchire, crescere, diventare verde, si possono fare correzioni, migliorie, migliorie e correzioni che vanno fatte soprattutto dopo l'uso, perché uno si rende conto con l'uso quotidiano cosa bisogna aggiungere, che cosa è bene togliere qualche volta, come è bene correggere, quindi l'illuminazione arriverà, la recinzione, perché alcune mamme e i mammini piccoli hanno posto alla questione della recinzione, vedremo, perché poi anche lì si tratta di una recinzione con diversi accessi e barchi, perché uno per entrare, abitando lì, per entrare nel giardino deve fare tutto il giro della piazza, quindi si tratta anche di studiare accessi comodamente in relazione agli usi e alle vicini, o può essere una recinzione ad esempio verde invece che una recinzione metallica, il significato è che di avere uno sterrato, oggi è un inizio di processo molto, di parco urbano, il parco di prossimità, perché diventa il luogo di ritrovo, di gioco, di spago per i cittadini del quartiere di Mulinube, con la riqualificazione del...